Benvenuti in un nuovo video della vita in città e oggi abbiamo a fare delle notizie incredibili Finalmente questa serie diventerà bellissima, super fantastica No, no, stai fuori, fuori, fuori La migliore mai creata perché sono diventato un sindaco Cosa c'è fuori? Perché? Perché vuoi mandare fuori te? Tu sei fuori, non entrare neanche in casa, Steph, ti odia anche Camille Nessuno voleva che tu diventassi sindaco Hai sentito che brutto mio goleo che ha fatto? Eh, come si è entrato tu, è ovvio, sì È arrabbiatissima Sì, non ti sopporta, Steph Anche lei non ti voleva come sindaco della città Ma le costruisco una statua gigante in città, Fere No? Non le piace? Prova a chiederglielo, non lo so Camille, non mi graffi, giusto? La vuoi una statua gigante? Ha fatto la faccina, io non ci credo Vuole cibo, aspettati Tieni un bel pesciolino, tieni, te ne lascio anche due Mangia tutto, andiamo, Steph È un po' arrabbiata, secondo me dovremmo comprarle tipo una cuccia Un tiragraffi Esatto, infatti tra le tante cose di oggi ci sarà anche quello Ma prima parliamo delle cose da sindaco Allora, Fere, due cose importanti Una sarà una richiesta per i consolini Ok? Ok Mentre l'altra, invece, è una cosa del semplicemente andare Ovvero, devo andare nel mio ufficio Perché ovviamente, essendo sindaco della città Adesso ho il mio ufficio da sindaco E ci devo andare per la prima volta Tra l'altro lo devo anche un po' arredare Un po' sistemare Anche se è già ben messo Ma chi te l'ha dato un ufficio? Eh beh, Fere, è ovvio Come può il sindaco non lavorare in un ufficio? Ovviamente c'è l'ufficio del sindaco Ed è bellissimo Ho già messo le mie foto ovunque Quindi è ancora più bello Adesso le vedrai So che sei molto felice di questa cosa Ma sei un po' egocentrico Scusa il sindaco Non è che deve mettere le sue foto Mette al massimo del suo ufficio le foto dei suoi cari Scusami No Sì E devo mettere di me stesso Per far capire che è l'ufficio Deve mettere la mia foto La foto di Camille La foto di Nino Ah, le mie zenture Anche se Nino non ce la abbiamo ancora Però, sì, anche le mie No, le mie zenture ti ho detto Allora, guarda qua Che ridicolo Eh? Ma almeno metti la piccola Non due poster E guarda che è venuto, Fere Finalmente almeno non sta più sotto terra Nascosto Ho deciso che lui sarà anche il mio assistente Barra segretario Fere Che c'è? Ho appena notato che ha un punto esclamativo O dietro la testa? Guardalo Perché è sempre È sempre sull'attenti, Steph Ho capito, ma c'è un limite È una persona molto legge il dovere Quindi è sempre sull'attenti Guarda come continua a seguirmi Per farsi vedere dietro la testa È per quello che non me ne ero mai accorto Secondo me, sai cosa è successo, Steph? Ok Che con la quarantena Ha provato a togliersi i capelli da solo Ah, è riuscito un punto esclamativo Sì, sei quando ti parte la macchinetta Ho capito Tipo l'hai regolata male Ed è quello che gli è uscito Comunque, questo sarà il mio ufficio da sindaco Questa è appunto la mia poltrona Dove mi stiedo per fare le grandi cose Per decidere tutte le idee Per il continuo della serie E per appunto far espanderle nella città Però, allora Almeno è un bell'ufficio, dai Vero? Ci prendiamo anche i soldi, Gioele Grazie, Gioele Perché qua comunque dobbiamo accampare In qualche modo Allora, mia cara Fede Domanda per i consolini Cosa molto importante Perché devo già iniziare a lavorare Non è che il sindaco ci perde Tipo tre mesi e inizia a lavorare Devo lavorare fino a subito Devo fare quindi una domanda Allora, sapete benissimo Che la prima cosa che dovevo fare è l'ottava costruzione L'ottava bellezza del mondo Quindi vorrei qualche consiglio nei commenti Per capire un po' che cosa vorreste Anche perché Fede potrebbe essere Un giardino paradisiaco bellissimo Potrebbe essere tipo una fontana gigante Con un giardino attorno Potrebbe essere una costruzione abnorme Può essere davvero di tutto Io vorrei Se posso dire la mia Qualcosa che sia tipo un monumento Identificativo della nostra città Quindi più che una fontana Magari appunto qualcosa come il Colosseo La Torre Eiffel Capisci? Cioè proprio che diventi l'immagine della città Eh esatto Ce lo dobbiamo inventare Perché giustamente Non è che possiamo prendere qualcosa Che già esiste Perché altrimenti Siamo ridicoli Però bisogna inventarsi qualcosa In quello stile In quel caso Eh appunto Che ci sono tutte le riproduzioni Delle città Ma noi non vogliamo fare quello Ne vogliamo una originale Quindi vorrei delle proposte Che magari ci fanno venire Delle idee Per una sorta di monumento Identificativo Mi raccomando Consulini Proponete Scatenatevi E se ne troviamo Pentimi la proposta E la scegliamo Lo mettiamo anche Una targhetta Nella costruzione Con il nome della persona Che la proposta Sì ci sta È giusto È giusto Questo è molto bello Vedi stai già lavorando bene Come sindaco Beh perché devi dare il merito A chi ha il merito È giusto così Ovviamente È giusto così Poi fare altre cose importanti Quindi mi raccomando Proponete Nei prossimi episodi Ovviamente dovrò lavorare al Po Perché come ho promesso Dovrà diventare Molto più bello di così Scusi me hai vinto Solo per quello Stef Ma non è vero Solo per il Po Ci sono un sacco di cose interessanti E quindi dicevo Dovremo lavorare al Po Però dobbiamo lavorare Anche a far arrivare Apple, Amazon, Google E così via Quindi dovrò iniziare Ad andare a parlarci Dovrò costruire Già dei locali Stavo pensando tipo Che il negozio di Apple Potrebbe essere carino Vicino al cinema Perché secondo me Può essere un buon punto Anche perché abbiamo Guarda Io pensavo Se noi lo mettiamo Qua alla sinistra Tu prendi questo tunnel Ed è proprio il mood Di andare a spendere soldi Perché se vai dritto Vai dentro al centro commerciale Dove c'è di tutto e di più Giri alla sinistra Mettiamo il negozio di Apple Giri alla destra Vai al cinema Sì Potrebbe essere una buona idea Vero? Secondo me potrebbe essere una buona idea Dovrei parlarci tanto Stef Li dovrei convincere Dovrei fare dei contratti Le sai fare queste cose? Certo Chi te ne insegnate? Sono andato imparato Non lo sapevi? Allora Lo dicono gli idioti quello Stef Quindi non mi piace per niente Vabbè Dato che siamo vicini al centro commerciale Ho pensato Facciamo un po' di shopping Nel negozio di animali Perché hanno messo anche Nel negozio di animali Per prendere le cose per Camille Tra l'altro A breve arriverà anche Nino Quindi è meglio iniziare A prendere tutto Che se no poi si arrabbiano Non so se è lì però Stef O sì Sì Mi sa proprio di sì E qui? Perché io non vedo niente da giù Chi sa dove l'hanno messo? Guarda io ricordo tipo All'ultimo piano Vabbè tanto come Eh no guarda l'ho trovato Ok Perché dicevo tanto dall'alto Poi riusciamo a vedere anche l'altra Alla del centro commerciale Che carino Guarda il ricetto qua È molto carino Sì piccolo ma carino Buongiorno Buongiorno Salve Guarda Non tira graffi La cuccia per i cani Pupazzetti per i cani O magari anche i gatti Cioè Nino e Camille Non giocano molto con i pupazzetti Però certi gatti sì Le cucce È bello Allora salve Elisabetta Vediamo un pochettino E vende il tira graffi Per 200 Secondo me possiamo anche Le run tira graffi Sì perché no Poi c'è il pet food Ok E poi ci sono I vari letti Allora io ti direi Aspetta che inizio a prendere Un pochino di soldi Che altrimenti Fammi vedere i colori Che colore scegliamo Facciamo così E cosa vuoi fare Camille magari possiamo Prendere un griggetto chiaro Silver Il silver è molto bello Esatto brava E per Nino cosa prendiamo Il marroncino C'è il marroncino No marroncino però no Perché marroncino È perché lui è marroncino Potremmo prendere l'orange No l'arancione no Secondo me è bellino Il celestino chiaro Il cyan Sì tipo il ciano Ok Ok va bene Dai ci sta Ci sta Poi prendiamo La cat tower Ok Basta una quella E prendiamo Una trentina di cibo Che secondo me Questi qua Sono dei mangi Ah la lettiera Steph Ho notato ora Dov'è La lettiera Sopra il telegraffio Anche la lettiera Giustamente Ne prendiamo una Per ora Vediamo se la usano In primis Speriamo di no Cavolo Ci mancano solo i bisognini Fere No faccio la vita reale Porca miseria Cioè è terribile nel caso Allora aspetta che Però una lettiera Per due gatti va bene Anche noi ne abbiamo una Quindi comunque una va bene Allora Andiamo Forza 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 Anche perché È ora di dormire Ho visto E proviamo a piazzare tutto Per vedere un pochino Se Camille apprezza Si calma un po' Dopodiché Dobbiamo andare anche allo zoo Per vedere un attimino La costruzione di Maria Lato che è terminata Ci sono un po' di cose Di cui parlare A riguardo Infatti se pensate Di averla vista In realtà non l'avete vista Perché è stata modificata Quindi tra poco Vedrete la costruzione Fatta per Maria Ed è importante Anche quello Dato che poverina Continuava a vivere E ancora senza casa Ma povera Noi l'abbiamo chiesto Un sacco di tempo fa E ancora stava senza casa Allora passiamo da qui Come ti sembra Farei a città Quando sono sindaco Molto più bella Uguale Perché ancora non hai fatto nulla Quindi Magari lo vediamo Tra qualche settimana Stef Rifammi la domanda Sei sicura Sì sì Uguale uguale Secondo me I cittadini Sono già più sereni Invece Non ho idea Camille sicuramente no Camille sta sorridendo Ok Quindi è positivo Perché sa che abbiamo comprato qualcosa Allora dammi un po' di arredamento Dammi dammi Ok allora ti do da E mettere Il suo letto Ok Allora il letto secondo me è carino qua Che dici? Vai ci sta Allora tipo qua Non volevi metterlo là vero? Mi è caduto nei piedi Non so per qua Ok Stef Sì Hai un piccone Sì Levalo Esatto esatto Perché sono un po' strani Allora la cat tower Invece gliela metto qua Carina Lo vorrei qui Però ho girato dall'altra parte Aspetta Perché va solo dritto Stef Aspetta Allora facciamo così Ecco Dai Ok È il massimo che posso fare Non si gira Provo a metterci del cibo dentro Vediamo se funziona Funziona? Boh Non so come si fa Lo sai Forse quella però è una ciotola per l'acqua Potrebbe essere Ah no Ah no ecco Ecco Camille Vieni a mangiare Guarda Camille Tu di solito quando senti il rumore dei croccantini È arrabbiatissima Corri come una matta Oh Ti ho messo il tiragraffio E ti ho messo il cibo con il lettino Cosa vuoi? Vieni qua però Guarda cosa abbiamo fatto Mi ha dato una sberla Ora è felice Perché ti ha picchiato Se sei felice a picchiarmi va bene Camille Io l'accetto L'importante è che tu sia felice No aspetta però Secondo me Secondo me la cuccia la dobbiamo mettere più qua Secondo me si è incastrata Mi metti il cibo Secondo me si è incastrata No non si è incastrata Ne sono abbastanza sicuro Vedi che non ci va Ci sarebbe andata al 100% Si è incastrata lì Non ce l'hai una corda? No guarda guarda A posto a posto Ok Guarda il cibo È come nella realtà Compri le cose e le ignorano totalmente Così Almeno ha lo stesso carattere Un po' di soddisfazione Allora metti anche la lettiera Steph Magari le serve la lettiera Aspetta No Allora la lettiera Qua nell'angolino Ecco qua Ho sbagliato Pensaci tu fare Te l'ho detto Un po' strano Praticamente te li devi mettere nei piedi Così ecco Ok Non andare nella lettiera Credo che la lettiera non è il massimo in camera Adesso dovremmo metterla Ci hai messo a dormire Ma dormi nella cuccia Dicevo che dovevamo metterla in bagno Ma da qui a far capire a Camille Dove sta la lettiera Buonanotte Anche questo è veramente realistico Dormiamo Vai Dormiamo anche noi Forza forza Che belle fusa che fa L'hai sentita? Sì Sembra così un trappano Ciao Camille Vuoi mangiare qualcosina? Dai vieni qui Perché sei sempre in quell'angolino là Brutto brutto Vai qua Guarda Guarda che bello C'è un sacco di cibo Ah torna un po' indietro Così vedi che la cuccia Eccola Guarda Non ci dà soddisfazioni È una roba veramente incredibile Vabbè però noi l'abbiamo messo necessario Basta così Credo Aspetta Pensavo volesse andare nella lettiera Invece no Andiamo via Va bene Ok Ok Allora aspetta che lascio qua il suo cibo Così ce l'abbiamo comoda Portata di mano E direi che è il momento di andare allo zoo Anche perché dobbiamo ritirare i soldi Che non ritiriamo da non so quanto tempo Perché stavo pensando soltanto a fare il sindaco È vero Quindi almeno ci facciamo anche un po' di dineros Che sinceramente non si buttano mai Assolutamente no Proprio mai e poi mai Allora sono pure le sette Quindi è ora di andare al lavoro Vediamo un pochino Fere Secondo te quanto abbiamo guadagnato? Non è la più pallida idea Ci sono almeno due stack da 50 Potrebbe sì Potrebbe Sono abbastanza sicuro Hopla Vai a vedere? Buongiorno Mattia Mi faccia vedere un pochettino Quanto c'è? Siamo ricchi Lo zoo Sta portando Da quando abbiamo fatto l'acquario Lo zoo ci porta un quantitativo di soldi fuori di testa Allora Aspetta un attimino Sono Allora eravamo a 22.570 3.000 6.000 9.000 Perché abbiamo fatto tipo 10.000 Bello Così tanto Allora considera che non siamo ancora minimamente entrati nelle spese Perché noi abbiamo speso Tipo una cosa come 350.000 Ok Per fare lo zoo Però almeno devo dire che da quando abbiamo aggiunto un po' di cose I soldi stanno migliorando Quindi di sicuro è una buona notizia E di certo schifo non ci fa In ogni caso siamo qui per farvi vedere la costruzione di Maria Ma prima di mostrarla bene nel dettaglio dobbiamo spiegare Esatto Cos'è successo? Allora noi avevamo chiesto a Mark di farla E Mark l'ha fatta L'ha pure mostrata mi sai nel suo video Dopodiché Maria è venuta di nascosto Zitta zitta A lamentarsi Perché è certo che non le faceva impazzire Posso dire una cosa? Mi sono lamentata anch'io Ah sì? Con Maria sì Abbiamo confabulato E quindi le abbiamo costruite un'altra assieme Ok E quindi Fede ha costruito questa nuova versione Ma sai perché voglio dire le mie motivazioni? Era grande quanto l'insedia dello zoo Cioè era più grande della cupola del leopardo Non poteva essere così grande La casa deve essere a misura di Maria che è una bambina Non era per un gigante di otto metri Capito? Ok Era quale l'insedicazione Allora comunque la nuova versione è questa Costruita tutta appunto da Fede Carina carina Con passaggio segreto Che dovrebbe essere qua Perché i bambini piacciono sempre i passaggi segreti Ovviamente subito un quadro di una tigre Perché sapete quanto è fissata Un pupazzo tigre qua per terra Il tappetino col divanetto Giacattoli la tv Giacattoli televisione Poi si sale di sopra E abbiamo letto con sempre altre tigri Tutto rosa Tutto carino Guarda devo dire che è molto bellino Anche secondo me piace molto Come ci vorresti vivere dentro vero? Esatto Però vabbè è un po' troppo a tema tigre Però Maria piacciono Mi ha chiesto dei quadri Ovviamente gliele ho messi Tanti pupazzi di tigri Infatti vedi che c'è un po' di arancione Perché le piace tanto anche l'arancione E spero che le piaccia La portiamo qui? Aspetta Vieni Maria Ci pensi tu? Sì 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 Maria Allora vieni a vedere la tua nuova casa Se adesso ti piace Cosa? Che c'è ancora la tua guardia qua ferma Non so quanto tempo Poverina Andiamo Maria Non la caccio di più Vieni 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 a vedere la tua nuova casa Adesso secondo me non capisce il passaggio segreto Guardate Guarda Hopla Aiutala Steph Vieni devi entrare qua Aspetta Vai È un passaggio segreto Eccola Eccola Ti sta seguendo ora? Sì sì è dentro casa È dentro casa Ciao Maria Cosa ne pensi? Poi lei che è così piccina La casa è perfetta Si è messa in un angolo come Camille Oggi Non ci danno soddisfazioni Ho capito che Vieni qui È quel genere di episodio Niente Fere Non c'è modo Mi dispiace Vabbè Ok ciao Maria Rimani dentro casa Speriamo che tu sia felice Che ti sia piaciuta la tua nuova casetta Speriamo che qua potrai vivere felice E ti vedremo spesso E volentieri Qua in mezzo allo zoo Dato che appunto vivi dentro allo zoo Comunque Fere Allora io volevo intimo vedere se stanno tutti bene Io volevo andare a trovare i miei amici cocodrilli Che sinceramente ci sono rimasti molto male Volevano andare nelle case delle persone Steph Però purtroppo non sono state elette sindaco Magari se qualcuno vuole Posso comunque Accontentare la richiesta Andiamo un attimo Non mi guardare male Ciao bellissimi Chiudiamo le porte Guarda che ti posso cacciar via Ora che sono sindaco Eh Sono arrabbiati con me Steph Davvero Sì Ti ho morso Sì Perché non sono diventato sindaco È quello il problema Sono molto offesi Loro volevano andare a proteggere Gli abitanti della città E vabbè Ho capito Colpa dei consulini campioncini Che alla fine hanno deluso i cocodrilli Sai che Fere Ho un'altra buona notizia da darti Quale? Nei prossimi episodi Lo zoo verrà finalmente espanso Dato che Essendo sindaco Ho fatto la richiesta Di buttare giù questa montagna Oh finalmente E di espandere ulteriormente lo zoo Perché comunque lo zoo Sarà nostro Ok Però comunque è un'attività Veramente gigantesca della città Dove un sacco di gente Viene a vedere Ci sono un sacco di turisti E così via Certo anche questa Tira un po' di turismo Quindi migliorarlo Migliora anche la città Seppur appunto Una nostra attività Di conseguenza diventerà Molto più grande E quando accadrà Cosa faremo Le cose che vi avevamo detto Ovvero creeremo Un prolungamento Dell'acquario Ovvero il tunnel Che inizia qui Che vi faccio rivedere Intanto perché è veramente Bellissimo Continua Risalirà verso l'alto E si collegherà Direttamente Ad una piscina In sorta di stadio Dove ci sarà un sacco di gente Con gli spettacoli Questo è un progetto Che in mente tu Ma io ancora Continuo a non capirlo Bene Prova bene Ci lavorerai tu È normalissimo Dopodiché Vogliamo fare anche Il percorso dove camminare Con gli elefanti Quindi salendo sopra Gli elefanti Perché secondo me Potrebbe attirare Veramente un sacco di gente E poi ovviamente Metteremo un sacco Di nuovi animali Perché siamo Da un po' di tempo Eh sai che cos'è Che infatti non c'è Tanto spazio Cioè dove ne costruisci Le altre ricette Guarda un animaletto Qua lo potremmo mettere Eh però è vicino Alla strada Quindi non so se mettere Tipo i bagni Qui ho un punto di ristoro No però se noi Mettiamo un bel po' di alberi Creiamo una bella barriera Dalla strada Esatto Esatto E mettiamo un animale Magari non uno troppo importante Qualcosa abbastanza Tranquilla Che non è che attiri troppo Come i procioni Eh esatto Che sono animali classici Quindi sì Sono carini da vedere Ma non sono la situazione principale Potremmo fare qualcosa del genere Potrebbe sicuramente Essere interessante Comunque noi Per questo episodio Ci fermiamo Dal prossimo Si entrerà nel vivo Dell'azione Come sindaco Eppure lo zoo inizierà Ad avere tanto più lavoro Quindi ci sarà un sacco Di roba da fare Ci saranno un sacco Di cose veramente Importantissime Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Sotto compaiono altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao